Come può la musica intervenire sulla fisica dei conflitti? Non lo so, la musica salva te stesso, ha una forza particolare, può soltanto bloccarti un attimo perché è un flusso diverso. Il tema della natura è presente in quasi tutto ciò che scrivi, ma in realtà la natura è parte stessa della composizione musicale, dell'architettura di qualsiasi forma creativa, da un lato talmente pura e semplice e dall'altro talmente sofisticata da toccare la scienza.